Il perseguimento della comunione, oltre le peculiari individualità, la testimonianza concreta dell'amore di Cristo e la vocazione ad allargare la presenza della Chiesa, al di là del perimetro liturgico. Sono alcuni dei temi affrontati da Papa Francesco nel discorso consegnato ai viscovi della Conferenza Episcopale di Bosnia e Herzegovina, ricevuti in occasione della loro visita ad limina apostolorum. Esprimendo gioia per l'imminente viaggio a Sarajevo il prossimo 6 giugno, il Pontefice non ha mancato di ricordare i non lontani eventi bellici che hanno segnato il paese costringendo tante persone a fuggire, così come pure le tante sfide che attendono la Chiesa, la dimensione multiculturale e multietnica in cui si trova a operare, la testimonianza del Vangelo offerta a tutti gli uomini, l'attenzione ai giovani, l'armonia nelle relazioni tra clero e religiosi. In questo anno dedicato alla vita consacrata, si legge, dobbiamo evidenziare come tutti i carismi e i ministeri sono destinati alla gloria di Dio e alla salvezza di tutti gli uomini, vigilando che essi siano effettivamente orientati all'edificazione del Regno di Dio e non inquinati da finalità parziali.